Amici e amiche di Kenobisboc, io sono Kenobit, questo è il mio santo Competition Pro e questa è la Cracktro di Kenomattina, che è il contenitore che in questo dicembre 2020 sta ospitando il Commodoro 64 Adventure Oggi è il 17 di dicembre, giovedì, e quindi sentiamoci la sigla e poi vediamo cosa ci ha preparato quel babbo bisboc che mi manca tanto Quindi 3, 2, 1, Adventure, sigla! Commodoro 64 Adventure Show Kenobisboc presenta Commodoro 64 Adventure Show Molto bene, ciao babbo bisboc, guardate qua il babbo bisboc nella grafica per il calendario dell'avvento Preparata dal nostro Francesco Bici, che ringraziamo, uno dei tanti favori che ha fatto Kenobisboc Ma vediamo cosa si nasconde dietro questa casella Another visitor E c'è... attenzione, c'è un... vedo dello spandex Vedo dello spandex e quindi lascio la parola a Babic e gli chiedo cosa mi ha preparato oggi Andrea Babic, buongiorno a te e buon 17 dicembre Ah, 17, 17, amiche da amici da Kenobisboc Productions Mentre qua io sono la riprova vivente del fatto che questo avvent show è stato difficile a realizzare Con problemi logistici molto, molto concreti Grazie ancora una volta a Fabio Kenobi Bortolotti Per essersi impegnato in prima linea in aiutarmi a portarlo a fianco Quindi mentre io sono qua che cerco di fare questa cosa A fianco della gente che continua a dire Dove sono le palle grosse? Le palle grosse? Non troviamo le palle grosse? Forse sono in cantina Dove sono le palle grosse? Non capisco perché Ma questa è la dura vita di un Babic Natalice Nel 2020 in cui nemmeno Cosa ridi? Questa non è una palla grossa Questa è una palla grossa Non lo so, diciamo una palla grossa A me non lo so Diciamo una palla media Però fate voi Si vede che non avete vissuto gli anni 80 Dove le palle erano veramente grosse Quindi Non è impossibile Bavo Natale non ha più la sua privacy Quindi Shockwave Rider Fast Than Light Un gioco molto interessante Che ci è stato ancora una volta consigliato da Da Niro E che fa virare questa settimana Se vogliamo Della Chielo Beast vs Red Actions In una direzione veramente bislac Ma mi piaceva prima dell'ultimo stretch Del Commodore 64 Admin Show Veramente mandare completamente In una dimensione psichedelica E inusitata Quasi perturbante Con una serie di giochi strana Shockwave Rider è veramente un gioco strano È un gioco che sfrutta il parallasse Con un'idea di gameplay veramente brillante Una specie di picchiaduro Inglese nello stile fantascientifico Ci si respira del 2000 AD Se vogliamo Quel tipo di atmosfera futuristica Sicuramente non americano Sicuramente non Che so Partenopeo per esempio No Shockwave Rider Quel sapore Quel sapore che non ti sbagli Quel sapore che Piacerà secondo me A fabbrica dei Bortolotti È per la musica Che è tutta quanta croccante e giusta È per il concetto Questo concetto che Questo sì C'è quel sapore di Cyberpunk che ci piace Quindi provalo Provalo E sappimi dire Che sensazione ti dà Ma che sapore ha Uno Shock Rider Uggioso Ciao ragazzi Grazie Andrea Babic Allora innanzitutto voglio dire Che secondo me Quella palla Era una palla Di natalizia Di diametro Medio Vi manderò Pubblicherò una foto Su Instagram Io ho qua Invece Una delle palle Di retrovigini Le palle di retrovigini Sono molto più grosse Hanno dentro La neve E pure Guybrush Fa ridere però Andate su Instagram Seguite retrovigini E guardate le sue palle E quindi Tolgo a malincuore La Cractro Di Kenomattina Craftata Amorevolmente Da Da Luca Fire Che ringrazio tantissimo Perché È una persona A cui Ho telefonato Un giorno Dicendo Senti Non è che mi fai Una Cractro Mi servirebbe Per domani E L'ha fatto Tra l'altro Quella che vedete qua È ancora la versione Non fixata C'è tutto C'è un piccolo bug Molto interessante Del quale parlerò Fuori Da un Commodore 64 Adventure Perché per il momento Dobbiamo andare Qua Nella cartellina Dell'avvento Oggi È il 17 dicembre Siamo verso Cioè Abbiamo verso la fine Di questo Commodore 64 Adventure Mi È un bel viaggio È un bel viaggio Devo dire che All'inizio Avevo Avevo quasi paura Perché Per me è santo Il Commodore 64 Adventure Ed era una delle cose Più Più Importanti Dell'anno E so anche Che è un formato Molto amato Anche su YouTube E So che molti ci tenevano Quindi All'inizio Avevo proprio paura Di rovinarvelo Spero di non avervelo rovinato Io mi sto divertendo A farlo Avere un rapporto Quotidiano Con il Commodore Sta Illuminando Questo mio Dicembre E insomma Sono Proprio contento È anche questo fatto Che Il Commodore Carica Quindi tu devi Parlare Devi improvvisare Devi guardare La webcam E dire Commodore 64 Adventure Lo sto facendo io Mentre il Commodore Carica Guardatelo qua Questo è un po' Il bello Del real hardware Ma anche un po' La sbattazza Del real hardware Non sai mai Quanto carichi Ma se non altro Con il setup Moderno Che abbiamo Che prevede Come vedete Una 1541 Ultimate Sappiamo Che Normalmente Si carica Tutto E adesso Ovviamente L'ho detto E probabilmente Non funzionerà Non mi fare fare figure Commodore Sarebbe bello Rivedermi insieme Con Bisboc Sfone l'occhio Lo scrivi in chat Ti dico Guarda Quest'anno Mi ha reso Un po' Più sentimentale Se c'è una roba Che mi ha lasciato Il 2020 È Essere Più sentimentale E ti posso proprio dire Che mi manca Tanto Andrea Babic Io sono abituato A cucinare Per Andrea Babic Una volta A settimana Da Letteralmente Negli ultimi 15 anni E Quest'anno Ci siamo visti Due o tre volte E mi manca Tantissimo Non vedo l'ora Di fare una serata Con lui In presenza Non vedo l'ora Che Non vedo l'ora Di poter essere Di nuovo Nella stessa stanza Sarà bellissimo Sarà una grande festa Lo festeggeremo Sentiamo questa Crattro Nel frattempo Relax Una chat rilassante Allora Nel frattempo Vi ricordo Visto che qualcuno L'ha appena chiesto In chat Che le musiche Del Commodore 64 Advent Show Sono disponibili Su Bandcamp Anche nella versione Estesa Con il testo In altissima qualità Su Bisbocch.bandcamp.com Ve lo consiglio Tantissimo C'è anche La nostra versione Di Adeste Fideles Che è Aleste Fideles Il link Che è stato postato In chat In questo momento È Bisbocch.bandcamp.com Allora Shockway Rider L'obiettivo È fare Full Circle Che un rider Deve Passare Attraversare Una dozzina Di Diversi quartieri Affrontare Dei pericoli Questi pericoli Che sono I borsaioli Gli innocenti Pedoni Possono essere Sopraffatti Con combattimento Corpo a corpo O con Una bottiglia O un mattone Ben mirato Ok Un gioco Rissaiolo Gameplay Va bene Chi se ne frega Forse così Forse run Eccolo qua HF Ok Me lo dai Un trainerino Ice Core Saver No Unlimited lives Yes Unlimited time No Invincibility No 1 o 2 Per cambiare arma Sì Start level selection No Commodore to skip level Yes Allora Joystick selected Bene Riders Sentite che bella Sta musica La alzo C'è sempre il momento Di Apprezzamento Della craft Cioè Della musica E questa musica che avete appena sentito È una musica di Rob Hubbard Questa è una vera foto di Rob Hubbard Che abbiamo io e Babic rubato a Zap Per il mio matrimonio avevo chiesto esplicitamente che non mi venissero regalate delle cornici Ma alcuni familiari di Marta mi hanno comunque regalate delle cornici e quindi io ci ho messo dentro Rob Hubbard L'ho tenuta sulla scrivania per un po' di tempo Marta non sopportava il fatto che avessi Rob Hubbard sul comodino Quindi oggi mettiamo qua Rob Hubbard Che proteggerà Però così non lo vedete Aspetta Devo metterlo in un posto adatto Rob Hubbard Proteggici Qua Ecco così Bene Vediamo se riesco a distruggere questa Allora in arte è un po' DJ boy Allora andiamo Cominciamo L'audio dovrebbe essere buono F1 for music Freeze Va bene Fire to start Level 1 Il quartiere nord Sembra un po' Pablo Escobar vero? Cosa devo fare? Noammo Va bene Ah posso Però a livello grafico Non ho ancora Non ho capito Intanto c'è scritto People power Con due cambio arma Ho le sfere Oh Ok Non mi posso Muo Non mi posso Voltare Verso sinistra No La sfera Quella di mi fa male Benissimo Allora se c'è qualcosa di questo gioco Che mi sta sfuggendo Ditemelo Ma che musica Ovviamente era una di quelle cose Che ai tempi Faceva scena per la grafica Aia Nella demo lanciava anche all'indietro Ah ok Ah forse posso Ah ok Ok Allora è tutto più facile Devo premere E Cambiare direzione Che musica Che musica La scritta People power Mi affascina Cioè people power E' una città futuristica Dietro Che lusso Eh si Cioè in realtà Mi giro Cioè se Se mi giro Vado indietro Cioè se Premo sinistra Perché sto morendo Così subito È un bug È un bug Io Ho superato il livello Buonissima notizia Shockwave rider Ma quello faceva male Va bene Io voglio Io voglio le sfere Sono meglio le sfere È un gameplay È affascinante Alla fine È come Quelle Tipo quelle Quelle Che sembrano scale mobili Ma in realtà Sono Tipo quelle degli aeroporti Ecco quelle che Prendi negli aeroporti Per non Per non camminare Esattamente Abba Tantander Questo è Cyberpunk 1987 Accurato Che musica Rob Abbard Tra l'altro Hug è Hug Abbraccio un abbracciatore Non confondete Rob Abbard Con Ron Abbard Nel senso che Rob Abbard Grande compositore Di musica Per Commodore 64 Ron Abbard Fondatore di Scientology Quindi cioè Sono delle cose Molto diverse E una È chiaramente Meglio Dell'altra Grazie a Batantander Per il follow Sono fatto male Purissima Però Allora Voi me lo dite Dite che Sembra ispirato I guerrieri della notte Un po' lo è Se vediamo Soprattutto Quella Quell'immagine Tra virgolette Digitalizzata Che c'è nella schermata Tra un livello E l'altro Però A me questo Dà l'idea Mi fa pensare Alle città di Asimov Nella fondazione Lui racconta Questi mezzi di trasporto Nelle città Mi sembra più Una roba simile Qua È duro È duro Duro Eh Giù Fatica Sì sì È un momento È un momento Dio delle città E delle immensità Ah come ti Ah perché Adesso qua di nuovo Il bug Sì E vabbè Allora mi costringe A saltare il livello Vedete qua Questa immagine Fa pensare Chiaramente A un'ispirazione The warriors Guerrieri della strada Però Questo sistema Di scale mobili Mi Cioè di Passerelle Mi fa pensare E anche Lo sfondo della città Mi fa pensare A una città futura La bottiglia Voglio la bottiglia Vado a piedi Grazie Dai Block Boys Ha una sua Croccantezza Interessante È bastardo Ma è bello Quante bottiglie Devo prendere Non capisco Come Faccio Superare Un livello Senza Arrivare A quel bug Sto Spaccando In questo livello Quando finisce Non capisco Qual è La regola Per il cambio Di livello Cari miei Block Boys È un loop Bug Sono Ho Buggato Tutto il gioco Li devo Menare Devo Menarli Senza Sfere Con i mattoni Cioè E adesso Ma è tutto Buggato È tutto Buggato Sì è tutto Buggato Ah è il timer Che è finito In realtà Ma io ho vite infinite Ho capito Allora Ult Ho capito Ho capito Che non ho capito Niente Ehm Come faccio Guerrieri Venite a giocare Col Commodoro Andiamo così Vediamo se adesso Non faccio errori Sai che c'è scritto Living is hard Melwin Melwin is mad Melvin is mad Melvin è pazzo E qua non ci sono nemici? Forse devo andare più Devo arrivare Devo arrivare fino alla fine Quindi devo stare Qua al più possibile Perché qua vado lento Qua vado più veloce Ok È una questione di Fast lane Voglio le sfere Le sfere mi danno più Sicurezza Ok Devo essere più veloce Quindi Subito morte Che poi Che roba Truculenta è Che muori E rimane la tua testa E basta Sul Sulla passerella Che musica Caro Robertoni Un abbardone Sprendo questo Non succede niente Si muore facile Allora Bello Aveva senza dubbio Un grande Fascino A livello grafico Queste robe che adesso Su Commodore Ci No allora Diciamolo Ai tempi L'informatica Il mondo dei videogiochi Era tutto così In divenire E soprattutto A casa Avevamo così poco A livello tecnologico Anche se Cosendo di poi Il Commodore È invecchiato Benissimo Come dimostra Il fatto che Esce ancora roba Nel 2020 Però ai tempi Questa era una roba Che faceva La sua scena Quindi Facciamo L'ultimo livello E Ci sentiamo Perché oggi Crazy Land Con la K Ma sei proprio Un matto Se metti Crazy Con la K Comunque È diventato Di una difficoltà Ma Donate in faccia A voi Se sto in mezzo Forse è più gestibile No Ma poi sentite che A me fa morire Perché Rob Abbard Faceva finta Che il Commodore Fosse una chitarra Ed era Una cosa Meravigliosa Guardate come si va Veloci Cos'è che Mi ha preso Un cartello Non capisco Cosa siano Allora Realizzo che posso Attirare i mattoni Anche In verticale Non che serva Ah però Sì in realtà Sono morto Ho ancora 54 secondi Per provare Ad arrivare Alla fine Ma Oh Ce l'ho fatta Oh Ce l'avevo fatta Bene Bene così Allora Io in realtà Ho vita infinite Sarei morto Tempo fa E L'obiettivo del Commodore Non è Spolpare i giochi Ma Aprire la casella Assaggiare il ciucatino E invogliarvi Anche voi A Prendere Il vostro Commodore Se lo avete A tirarlo fuori Dall'armadio Attaccarlo alla tv Oppure Se non avete un Commodore A A scoprirlo A guardarlo A Provare A emularlo Provare Anche se non siete Nati o nate Nell'era del Commodore E' una macchina Affascinante Da esplorare Anche solo per vedere Com'erano diversi Videogiochi Com'erano diversi Ritmi E le sensibilità A questo punto Io vorrei fare una cosa Visto che Abbiamo qua Rob Abbard Ed è Un Veramente Secondo me Uno dei più grandi Compositori Della storia Del Commodore Beh Senza dubbio Più che uno dei Oltre a essere Uno dei più grandi E' anche uno dei più Seminali Nel senso che Molte delle cose Che ha fatto Hanno poi Plasmato La sensibilità Del mondo Del Commodore E quindi io In tutto questo Vado a Prendere E vi Propongo Un pezzettino Di Abbard Un pezzo Di Abbard Che ce lo sentiamo Così In purezza Per Anche per Tra l'altro Dobbiamo fare una Re-release Io e Babich Anni fa Constatando che Questo Commodore Si sentiva da paura Abbiamo Fatto Una Selecta Kenobisboch Prima ancora che si chiamasse Kenobisboch Di Brani di Abbard Li abbiamo Campionati Li abbiamo Registrati Benissimo In In Real Hardware E Ce l'abbiamo L'avevamo pubblicato Su Outcast Mi pare Ma adesso è sparito Quel file Però ce li ho ancora E Li faremo come Re-release Per questo Natale Potrebbe essere una buona idea Allora Vediamo cosa ci ascoltiamo Di Rob Abbard Così al volo E' tutto bello E' tutto bellissimo Di Rob Abbard C'è veramente Un sacco di roba Qualcosa che Vi possiate godere Da subito Zuluk E' tutto giusto E' tutto giusto E' tutto bello Sentiamoci Sentiamoci Una Una Mega Apocalypse Sentiamoci Una Mega Apocalypse Ce la sentiamo A cannone E dopodiché Ci salutiamo E Dietro questa casella C'era un po' di Rob Abbard Bonus Rob Abbard Proteggi Il Commodore 64 Advent Show E Esibisciti Con questo Seed 6581 No Dopodiché In Qua era silenzioso perché c'era del parlato nel gioco Guardate come ha fatto glitchare Il player Guardate come ha fatto glitchare 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 E scusatemi Io ve l'ho detto Secondo me questo Questo Commodore suona Veramente 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 bene E quindi dai vi faccio sentire un altro Un altro assaggio di un pezzo di Abbard Qualcosa di qualcosa che faccia che spacchi ancora il player Sentiamoci skater dai Che suona come una bomba a mano Con il digi Ossia con Sfruttando Sfruttando l'uscita del Commodore Facendo della pulse code modulation Gli ingegneri Meglio Gli ingegneri ragazzini Che componevano su Commodore Erano riusciti a fare Dei sample Sentite come suonavano qua Anche qua c'è il player rotto Gli ingegneri ragazzini Che bomba Allora guardate Questa è La mia promessa Di regalo di Natale Per In fondo In fondo all'Advent La Selezione Fatta Da me E Babich Di pezzi di Rob Abbard Suonati Su questo Commodore Verrà Pubblicata Sul nostro Sul nostro Discord E la metteremo anche In descrizione Qua sotto Il Sotto il video Di Natale Quindi Amici Amiche Grazie per essere stati con me Pensate un po' Anche a Rob Abbard Oggi Pensatelo che è lì Nella sua Rob Abbardosità E Grazie per stati con me Abbiamo visto La casella del 17 Dicembre Di questo Commodore 64 Advent Show E vi ringrazio Per essere stati con me E ringrazio anche Babich Luca Fire che chiede Perché non vedi Warhawk E perché c'è Eccolo qua Quindi vi ringrazio Ci vediamo Più tardi O meglio Ci vediamo domani Con un'altra puntata Del Commodore 64 Advent Show E invece Continuiamo qua Live Su Keno Mattina Se state seguendo Solo su Youtube Venite A trovarci Su Twitch Che si sta bene L'acqua è calda A presto Ci vediamo Domani Con un'altra puntata Del Commodore 64 Advent Show E siglettina Ciao